Presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto oggi a Mosca il premier giapponese Shinzo Abe. Al centro dei colloqui soprattutto la questione delle isole Kurili contese tra i due paesi dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. All'inizio della bilaterale il leader del Cremlino ha sottolineato il passo avanti nelle relazioni tra Mosca e Tokyo. Durante il nostro ultimo incontro, prima in modo diplomatico e poi attraverso una serie di trattative, ci siamo accordati sull'attivazione del lavoro bilaterale. Possiamo già trarre alcune conclusioni, il progresso fatto è già tangibile. Tra le questioni in agenda è il trattato di pace che Mosca e Tokyo non hanno ancora firmato a causa della controversia territoriale sulle isole Kurili, occupate da Mosca e rivendicate dal Giappone. Obiettivo comune è anche la ripresa delle trattative del tavolo a sei per risolvere la questione della penisola coreana, una situazione, ha fermato Putin, in serio degrado.